Yu-Gi-Oh sta morendo Questa frase la diciamo all'incirca da 15 anni Boys, come state? Spero tutto bene Io oggi sono allucinato Sono distrutto Sono veramente provato Ma come avete visto dal titolo Oggi andiamo a farci una chiacchierata E andiamo a parlare un po' della situazione in generale E di quello che ho deciso di fare Però prima di tutto lo sapete Iscrizione al canale che è importantissima E lasciate un like per il supporto Boys, è importantissimo Spingete quel tasto di like Facciamo decollare questi video E ovviamente poi andatemi a seguire su Instagram Lo sapete Vi trovate come Bastardo7 Fatelo ragazzi Fatelo Detto questo io partirei con il monologo Prima di tutto però come Peaky Blinder Andiamo a prendere la sigarettina tattica Che insieme alle quattro monster Che ho bevuto prima Penso che oggi faremo la combo finale Non so neanche se vedrete questo video Probabilmente collasserò però Vi ricordo sempre di non fumare Perché il fumo fa male Io lo faccio perché sono distrutto E non posso fare altre cose nel video Allora Di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi video importante Video serio Video chiacchierata con il Bash Ok quindi nel chilling Vi prendete la biretta O quello che cazzo è Vi mettete a sfogliare le carte Perché dovete cercare quella carta comune In mezzo a quelle 10.000 carte che avete E non la trovate Quindi potete mettere tranquillamente Il video del Bash in sottofondo Allora come avete visto Sono usciti i FianSmith Non so quando vedrete questo video Ma probabilmente saranno usciti i FianSmith E come avete visto Nel TCG i prezzi sono folli E non sono folli per l'hype Ma sono folli perché quelle carte Sono veramente forti Sono forti Inoltre Sono short printate Tipo alla massima E quindi L'engine Su per giù Costa 500 euro Perché poi Se vai a mettere Chi ha i playset E chi ha solamente una copia Se vuoi fare Il minimo degli ordini Va a finire Bene o male Vai a spendere 480 euro Con la spedizione Arriva a 500 per forza Arrotondiamo a 500 Come avete visto su Instagram All'incirca era 460 Ma stiamo lì 500 e facciamo cifra tonda Perché faccio questo video Perché mi sono rotto Letteralmente I coglioni Mi sono rotto i coglioni Di dare i soldi Alla Konami Però attenzione Non è un video Dove quitto Ok Tu che segui il video Perché speri Che io quitto Yu-Gi-Oh no Non quitterò mai Yu-Gi-Oh al massimo Lo giocherò di meno Però purtroppo Non posso quittare Questa merda di gioco Perché ci sono cresciuto Ci sono affezionato E ho sempre la speranza Che prima o poi un giorno Forse Migliorerà Quindi no Fanculo Non quitterò questo gioco Giocherò anche agli altri giochi di carte Ma non quitterò questo gioco Allora boys In questo video Vi dirò semplicemente Che mi sono rotto il cazzo Di supportare la Konami Comprando le carte forti Prima o poi Sarebbe arrivato Questo momento E ho deciso Che per questo formato E penso anche Per i formati Futuri Non giocherò più I tier 1 Attualmente sto giocando Snake Eye Quindi non è che Ho i problemi A comprare le carte Solamente che mi sono rotto il cazzo Perché non è possibile Che La Konami Continua a spingere Così tanto Su sto cazzo di power creep Perché letteralmente I fansmith Sono L'apoteosi Del power creep Sono letteralmente Carte sgravate Che danno accesso a Beatrice Che probabilmente In futuro verrà bandita Come sempre Ci rimettono le carte vecchie Per le carte nuove Mi sta sul cazzo Questa cosa di Beatrice Perché lo sapete Io ho giocato Bia un sacco di tempo Bia nel cuore Bia best deck Let's go Infatti vedermi Vedere una Beatrice Possibilmente bannata Un po' Mi disturba In OCG l'hanno messa uno Tra l'altro Mi sono spento Oh mio dio Magari in futuro Fumerò le paglie In diretta Non lo so Comunque Qual è il problema Il problema È che mi sono rotto il cazzo Che la Konami continua A trattarci così Nel TCG Perché Cioè Raga Basta C'è una certa Uno si rompe il cazzo Il problema però Attenzione Attenzione Perché questo non è un video Dove io Butto la merda sul gioco Non c'è bisogno Per quello Ci pensa già La Konami In questo video Metto semplicemente I puntini Sulle B E vi vado a dire Quello che farò Nel futuro prossimo Il problema principale Di queste carte Non è tanto Il costo Il problema È che Le carte Su Yu-Gi-Oh Per me Personalmente Non devono costare Così tanto Non devono avere Questi cazzo Di prezzi Quei quattro Scemi Che dicono Che le carte Devono costare Perché Se no L'azienda Come guadagna Come guadagna In Giappone L'azienda Cioè In OCG Come guadagna Semplicemente Ci giocano Il quadruplo Dei giocatori Perché le carte Sono più accessibili A tutti Per chi Per chi non ha seguito I video vecchi O comunque Per chi Magari non lo sa In OCG C'è un altro Tipo di mercato Per le carte Di Yu-Gi-Oh Dove praticamente I box Hanno i pull rate Maggiori E le carte Escono in rarità Diverse Alte E basse In un vecchio video Avevo fatto L'esempio di Ferrier Perché è quello Più lampante E quello che Ve fa capi un attimo Il TCG Quanto fa schifo Ferrier Da noi È uscito Che stava A 65 euro E per trovarlo Devi comprare Praticamente Due o tre box Per trovarlo uno Mentre in OCG Ferrier Si trovava Super Oltre a Ultimate Ultra E altre cazzate Si trovava Super Per l'equivalente Di 5 euro Quindi letteralmente Con 15 euro All'epoca Ti facevi Ferrier In OCG Che era la staple Del momento Più forte Che ti serviva Per giocare competitivo Perché ovviamente Yu-Gi-Oh È incentrato Verticalmente Sul competitivo Specialmente Nel TCG Perché almeno In OCG Ci hanno i prodotti Da collezione Fanno le rare di collection Molto più spesso Fanno un sacco di collezioni Divertenti Belle Succose Fanno i playmat esclusivi Fanno i tin esclusivi Fanno i box esclusivi Fanno di tutto Cioè in OCG Si divertono Ok Che c'è maxi Masticazzi Masticazzi Cioè il gioco è giocatissimo Perché è accessibile a tutti È una cosa che non capisce Molta gente Che Se le carte costano di meno Il gioco è più accessibile a tutti E quindi ci giocano più persone Giocandoci più persone È uno più divertente Due Anche giocare a local Avrebbe più senso Perché più gente gioca Più Puoi vincere i buoni Un po' più grossi Perché se da 30 persone Che stavamo a local Siamo passati a 20 Da 20 siamo passati a 15 Da 15 siamo passati a 10 E poi da 10 Siamo passati pure a 6 Perché Ok C'è stata la gente Che sta nelle grandi città Ma comunque Nel resto d'Italia Non è che stanno tutti Nelle grandi città E moltissimi local Hanno avuto una diminuzione Di giocatori Non è che lo dico io Lo dicono i dati Ok Ma vabbè Se state nelle grandi città Siete fortunati Perché comunque La gente arriva anche da fuori Magari con i mezzi E quindi Più o meno Giocate sempre Però Nel resto d'Italia I giocatori stanno sempre diminuendo E stanno passando ad altro Quindi Il problema principale Non è tanto Il prezzo delle carte Il problema è che Questo è l'unico Gioco di carte Che non ha i premi Ok Il competitivo È a senso unico Perché il premio Più grosso Che vi danno È la Nintendo Switch Ok Insieme a quel giallone Del cazzo Che è veramente Difficile da vendere Che solamente Chi proprio Vuole fare la collezione Te lo può comprare E si vende All'incirca 600 euro Che comunque Non è una cosa Molto Veloce da dar via Perché se andate a vedere Su Card Market Ce ne stanno Di Another Universe Anotherverse Come cazzo Si chiamano Quei gialloni di merda Che fanno schifo Tra l'altro Ancora non ho capito Perché come Price Card Non mettono semplicemente Il Mago Nero Il Drago Bianco Exodia Starlight Quarter Century Porco Dio Qualsiasi altra Rarità del cazzo Basterebbe mettere Quelle carte E già il gioco Avrebbe senso Perché comunque Se tu magari Arrivi primo al YCS O comunque Fai Top 8 A un evento importante E ti danno magari Il Mago Nero Il Drago Bianco Comunque le carte Iconiche Te le danno in versione Quarter Quelle se panno Vende Quindi magari Un minimo Ti riprendi Invece no Se arrivi in Top 8 Quindi dal terzo posto In giù Te danno quella Manciata dei bustini Nel tappetino Nel tappetino del cazzo E vabbè So cose che dico sempre Però è questo il problema Cioè nel senso Il costo delle carte Non è giustificabile Su Yu-Gi-Oh Perché attenzione Attenzione Questo non è un video Come ho detto prima Che vuole buttare la merda Sul gioco Io gioco anche a Magic Ok? Gioco anche altri giochi di carte Il Power Creep C'è dappertutto La differenza è che Negli altri giochi di carte Il competitivo ripaga Qui no Quindi qua Spendere 500 euro Per 7 carte Per andare a vincere il nulla Non c'ha senso È oggettivo Non c'ha senso E non capisco Chi difende Ancora La policy Della Konami No Le carte Devono Costare Perché il gioco Non deve essere per tutti Porco Dio Frate Cioè ripiate Innanzitutto ripiate Ripiate e poi svegliate Perché comunque sia Più andiamo avanti Più il Power Creep Sale Più il Power Creep Sale Più il gioco Diventa sempre Una necchia ristretta Una necchia ristretta Perché comunque Regà La concorrenza Si fa sentì Cioè i giochi di carte Gli altri giochi di carte Si fanno sentì Se io devo spendere 600 euro Per comprare 7 carte Io lo stavo per fare Questo video Lo sto facendo Perché stavo per fare La cazzata Di prendere Fiendsmith Lo ammetto Lo ammetto Perché alla fine Anche noi abbiamo un ruolo In questo gioco di merda Noi che comunque Abbiamo un minimo di visibilità Quindi non voglio Non voglio più giocare tier 1 Mi sono rotto il cazzo Di spendere Tutti sti soldi Per un gioco Che non ripaga niente Ok Non ripaga un cazzo No ho spenta Dio porco Ho parlato troppo Scusate se il video Magari sarà un po' editato Un po' di taglio Ma sto facendo tutto così Senza copione Non me ne frega un cazzo Lo sapete Quindi Mi sono letteralmente Rotto il cazzo E non voglio comprare Fiendsmith Questa stagione La giocherò Senza il tier 1 Ok Cioè raga Sto mazzo È devastante C'è poco da faccia Ha 26.000 partenze Giocarlo insieme a Fiendsmith È letteralmente Giocare con i cheat È letteralmente Giocare con i cheat E ho deciso Stai a rimanere sulla mostra Che schifo Non mischiate mai Gli energy drink Ho deciso Che in questa stagione Non giocherò tier 1 Giocherò un mazzo Un altro mazzo Che non è Al pari Del nuovo tier 1 È un mazzo Tra il rogue E il tier 2 Poi in futuro Vedrete sicuramente La deck profile Però Ho deciso Di fare questa cosa Come vi ho detto Già in passato Voglio cercare Di andare a fare Gli eventi Però adesso Ho preso Questa decisione Voglio farli Senza giocare Il tier 1 Quindi Già che è difficile Comunque Andare a fare Un evento Non avendo Abbastanza tempo Per testare Inoltre Con questa decisione Di non giocare Più tier 1 Sarà il doppio Più difficile Ma alla fine Qualcuno deve provarci E quel qualcuno Sono io Tra l'altro Tra l'altro Ho visto una cosa Imbarazzante Molti box Di info Sono fallati Alcuni Hanno una secret Sola E alcuni Sono usciti Senza secret Di che stiamo parlando Cioè Di che stiamo parlando Già che comunque Sia Ho visto i prezzi Medi di solito Su card market Si trovano a 55 euro I box E questo qua Sta a 75 In più Adesso Stanno uscendo Questi altarini Dei box fallati Infatti ho fatto Il post su youtube Ho scritto Non comprate i box Di info Letteralmente Non li comprate Immaginate uno Che compra du box Di info E c'è trova una secret Su du box Madonna Cioè te ve ne vogliate Sparate Te ve ne vogliate Sparate Il punto focale Di questo video È questo Cioè Per me Il problema Di Yu-Gi-Oh A differenza Degli altri giochi Di carte Vabbè i problemi Ce li abbiamo Quanti vi pare Cioè potrei fare Un video di due ore Dove parlo dei problemi Alla fine noi giochiamo A questo gioco Per due motivi Uno Perché siamo affezionati Al brand Ci siamo cresciuti Due Perché abbiamo La speranza Che prima o poi Possa migliorare Ma Ma chi vogliamo Prendere in giro Siamo sempre Allo stesso punto La polisi Della Konami È stampare Le carte più forti Quindi Impegniamo Il power clip Impegniamo Il power clip Impegniamo Il power clip Tanto la gente Le carte le compra Tanto la gente Le carte le compra Tanto la gente Le carte le compra E se vi mettete E se vi mettete Nei loro panni Perché cambiare Questa cosa Cioè nel senso Ma alla fine Se c'è i poli Da spennare Ma perché Dobbiamo cambiare Le regole Cioè la formula Magica della Konami È quella Power clip Alziamo il power clip Tu sei costretto A comprare Quelle carte Perché se vuoi Giocare a competitivo Fuori dal local Dico Sei costretto Perché Per carità C'è sempre La leggenda Metropolitana Del mazzo Chiamato Ok Fai la metacall C'è sta Però comunque Devi essere un giocatore Grosso Devi essere un giocatore Forte Molto forte Cioè se vai a vedere YCS Sono pochi i casi In cui Hanno vinto I mazzi ambigui Diciamo I dati oggettivi Sono quelli Quando c'è il mazzo Forte Vince quello Punto E Snake Eye Fian Smith Sarà il nuovo Mazzo forte Cioè sarà il mazzo Da battere Oggettivamente Statisticamente È il più forte Non c'è un altro mazzo Più forte di quello Perché c'ha letteralmente 46.000 partenze Tutte one card combo E amen Però il Bash Proverà a giocarci contro Con un mazzo Che è letteralmente Un rogue Un tier 2 rogue Non so come dire Ma è sicuramente più rogue E quindi boys Ricapitolando questo video Mi sono rotto il cazzo Di supportare la Konami Comprando le carte forti Anche se Il problema Alla fine È che Ti costringono Cioè se vuoi giocare Competitivo Ti costringono Perché poi alla fine Sta cosa Si riversa anche nel local Perché se magari siete In 12 nel local E 5 giocano meta Si riversa anche nel local Piccolino Ok quindi Manco dici Va a far ragione Proprio nel local Ti ritrovi Comunque la gente Che gioca il mazzo Fortissimo Che praticamente Ti sta sul cazzo Ti sta sul cazzo Ma non perché Qualche motivo Stanno rappresentante Perché mazzo È così forte Che ti va sopra De risorse In maniera incredibile Cioè io Il periodo Che ho giocato Questo mazzo È stato ridicolo Cioè letteralmente Mi facevo schifo Perché Va da solo Sto mazzo Ok Fai un miliardo Di risorse E vai sopra A qualsiasi avversario A meno che non ti trovi Quello che si è proprio Montato il mazzo Contro di te Ma Poi Deve anche vedere Gli altri matchup Quindi boys Che dire Mi sono rotto il cazzo Di spendere i soldi Per la Konami Adesso giocherò Un mazzo Che non è meta Un mazzo Che non è tier 1 E mi impegnerò A portare questo mazzo In alto Ho ordinato Le ultime carte Che mi servivano Per questo mazzo In OCG l'argento Si diverte Ci sarà un motivo Se il mazzo meta In OCG Lo paghi 200 euro Perché alla fine Se andate a vedere I prezzi Comunque All'incirca Sono quelli Cioè Il mazzo nostro Che di solito Costa 800 euro In OCG Te lo fai con 200 E te lo godi Cioè Giochi competitivo E quando esce la banlist Che va a toccar il mazzo Non ti viene uno scompenso Inoltre La gente È un botto De più Perché il gioco È più accessibile È una cosa Che alcuni Non concepiscono Cioè Non concepite questa cosa Che se il gioco Fosse più economico Sarebbe più accessibile Quindi ci sarebbero Più giocatori Io so sicuro Metti caso in Italia Quanti saremo A gioca standard Modern Chiamatelo come cazzo Mi pare Quanti saremo 6.000 Mi sembra che al nazionale Quest'anno c'erano 1.300 1.400 persone L'anno scorso Ce n'erano 1.700 Quindi Piano piano La gente Ha quittato La cosa brutta È che hanno quittato Pure quelli forti Cioè La gente forte Sta a cambiare gioco Ok È andata su altri giochi Il fatto è questo Che se uno vuole Gioca competitivo Quindi deve impiegare Del tempo Oltre ai soldi Perché alla fine Sti cazzi dei soldi Il fatto è il tempo Cioè Uno impiega il tempo Il tempo è più importante Dei soldi Chi ancora non capisce Sta cosa È perché deve ancora crescere Cioè quando crescerà Capirà che il tempo È più importante Dei soldi Quindi Uno che magari Vuole giocare competitivo Un gioco di carte Se ritrova E impiega tantissimo tempo Su Yu Yu E poi non viene ripagato E quindi La gente Va da altre parti E fanno bene Se io devo spendere 600 euro Per montarmi Fian Smith Preferisco comprarmi Un mazzo per il modern Di magic E gioco a modern Non mi rega un cazzo Cioè Almeno lì qualcosa vinco Il fatto è questo Secondo me Se il TCG Diventasse Come l'OCG Quindi Il mercato Cambiasse Impossibile Secondo me I giocatori Si quadruplicherebbero Sono sincero Mi posso giocare Il coglione destro Che se noi Avessimo Il mercato Come l'OCG Ci giocherebbero Almeno Il 4 per Dei giocatori in più Non so quanti Potremmo essere Però Tra la gente Che non va agli eventi La gente che magari Gioca solo A local Io penso che Manco a 10.000 Arriviamo Dei giocatori Perché comunque Il gioco Più va avanti Più diventa Di nicchia Cioè Diventa sempre Più piccolo Il TCG Perché ovviamente L'età media Si alza Ti serve uno stipendio Per giocare competitivo E non vinci niente Perché comunque Su c'è il mazzo Da 600 euro Vinci le bustine È una presa in giro È una presa in giro C'è poco da fare È una presa in giro Manco le prize card Danno Perché almeno Se dassero Quelle cazzo Di prize card Ok Se almeno Mettessero le carte Che uno dice Oh provo a vincere Quelle carte Le vendo Almeno il mazzo Ma sono ripagato E poi continuo a giocare Finché La banlist Me lo permette Almeno lì Ci avrebbe senso Invece no Uno si ritrova A spendere Quasi un migliaio D'euro Per un mazzo E non vinci niente Non vinci niente E non parlo Non voglio parlare Delle spese Tutto il re Proprio A livello Oggettivo Gli altri giochi De carte Le carte costano Il power clip C'è in tutti I giochi De carte Però negli altri Giochi De carte Ci stanno I premi Il competitivo È visto In maniera Più seria Perché qua Regà Ti stringono la mano Dando la nintendo switch Cioè Veramente Io Mi sento proprio Preso per il culo Cioè Ma tu veramente No Come ho detto Nell'altro video Quando Joshua Smith Ha vinto il WCS Bologna Stava lì Con la nintendo switch In mano Regà Per me era proprio Cringe come cosa Cioè Nel senso Hai vinto un WCS Dando la nintendo switch Dio porco Cioè Solo SP Costava 110 euro Quando è uscita Cioè SP SP Quando è uscita Costava 110 euro In OCG Costava 9 euro Cioè 9 euro Costava 9 euro Solo possono permettere tutti Quindi tutti Possono giocare a competitivo Eppure è più divertente Perché più gente Gioca a competitivo Più te sfasci Cioè Quando tu giochi Un mazzo del genere Magari a local E ti arriva davanti Il ragazzetto Che è iniziato a giocare adesso Che c'è il mazzo Rogga da 150 euro E tu giochi questo Cioè Ti vengono pure I sensi di colpa Perché lo asfalti Carinello Cioè Gli devi proprio La voglia di giocare Lo distruggi Lo devasti Cioè One card combo Una carta 8 interruzioni Perché alla fine Il problema è quello Che la Konami stampa Stai cazzo di carte Che da una carta Rie fa Una board intera Da una carta però E la cosa ancora peggio La cosa ancora peggio Che mi si è spinta la sigaretta La cosa ancora peggio È che poi il TCG È passato in terzo luogo Nella scala di impotenza Della Konami C'è Lo CG Che viene supportato Fortissimo Poi c'è Master Duel E poi c'è il TCG Perché come avete visto Ormai Le carte Prima escono su Master Duel Cioè Da che era il contrario Adesso le esclusive Prima le fanno scese Un Master Duel E poi arrivano il TCG Quindi c'è OCG Master Duel E TCG Praticamente il TCG È l'ultima ruota del carro Però È la ruota d'oro Perché è quella Che porta più soldi All'azienda Visto che noi siamo Dei polli Che ci facciamo Spennare ogni volta Ma io Ho deciso Che non mi farò più spennare Almeno in questo formato Dove ci sarà Fian Smith Monometa Non lo compro Giocherò altro Come diceva Un vecchio YukiTuber Tutti siamo capaci A vincere con il Tier 1 Prova ad andare a fare Un regional Colle di Erpia Questa è una frase Leggendaria Poi vabbè Hanno annunciato I nuovi Max C Farlocchi La medusa nuova È molto forte Il problema Della medusa nuova È che è letteralmente Una sorta di shifter Nel senso Se la vedi Nella prima mano È molto forte Se la vedi a metà partita È un palo Max C È forte pure a mid game Le meduse nuove No So dei pali Quindi Praticamente È come avere I nuovi shifter Tra l'altro Fatevi Flanderese Fatevi Flanderese Perché io Nel video dove ho parlato Della medusa Essendo che era tipo Giapponese Non sapevo Il tipo della medusa Cioè la medusa È bestialata E quindi Bois che dire Io Almeno Adesso Ho deciso così Non comprerò Fiendsmith Farò più fatica A giocare Sti cazzi Avremo più soddisfazione Sicuramente Però Sinceramente Non voglio Supportare la Konami Almeno In questo nuovo formato Perché tanto Fiendsmith Durerà Bene o male Almeno Penso Fino a marzo Forse pure di più Non lo so Perché è letteralmente Troppo sgravato Spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Della situazione attuale Di Yu-Gi-Oh Lasciatemi un commento Io li leggo tutti E rispondo a tutti Appena ho tempo Lo sapete Lavoro come un magrebino Quindi Quando posso Vi rispondo sempre Scrivete il commentino Lasciate E like E iscrivetevi Che è importantissimo E ovviamente Tanto pulisco io E ovviamente Andatemi a seguire Su Instagram Lo sapete Mi trovate come Bastardo7 Fatelo ragazzi Fatelo E detto questo Noi si beccamo Al prossimo video Let's go Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti